Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua per una nuova presentazione, perfetto, siamo sempre qua con il nostro circuito, appunto, lo stiamo appunto costruendo pian piano, o meglio stiamo costruendo il nostro progetto, perfetto, perché la nostra lampada d'emergenza è modificata, ok, e quindi sfruttiamo la comodità appunto di avere già la scheda, modifichiamo ciò che ci interessa e quindi così è un progetto alla portata di tutti. Grazie mille come al solito ragazzi per l'interesse e tutto quanto, eccetera, eccetera, bene, allora nella scorsa volta abbiamo visto appunto il nostro pacco batterie, perfetto, adesso è inutile fare un'unica presentazione, esempio, sulla scheda di ricarica, ok, inquadrando solamente la scheda, abbiamo come al solito tutto il nostro insieme, perfetto, ed ecco qui appunto ci spostiamo, andiamo a vedere appunto la scheda, o meglio il bilanciatore di ricarica per quanto riguarda il nostro pacco batteria, è un nostro pacco battery pack, ok, dall'inglese, ok, delle Lyon, eh, non dimentichiamocelo, mi raccomando, perfetto, e sarà appunto questa schedina qui, ok, che automaticamente poi con LED, perché c'è anche LED ovviamente, andrà a ricaricare ogni singolo elemento, perché le batterie Lyon devono essere caricate una per watch, nel senso singolarmente, non posso ricaricare tutto quanto insieme, a meno che abbia sia appunto la singola batteria, appunto come avevamo visto in quella famosa presentazione là, però lì ho una tensione luminelle, o meglio una DDP unica di 3,7V, per cui allora posso ricaricarla, altrimenti no, perfetto, e quindi il nostro amico LED luminoso 3 mm bicolore, ci dirà esattamente quando la batteria è piena, si chiama, è perfettamente carica, comunque carica, lampeggerà velocissimamente, o comunque a un ritmo sostenuto, di verde, perfetto, come suona male, sarà quindi verde, lampeggerà appunto molto velocemente, Invece quando la batteria sarà quasi scarica, o comunque starà per caricare, diventerà rosso, per cui un lampeggio lento rosso, perché poi automaticamente diventerà velocissimo, e qui praticamente quando sarà velocissimo, proprio la carica è completamente come se fosse vuota, e niente, poi ovviamente bisogna ricaricarla. Come al solito ragazzi, sappiamo purtroppo che l'elipo, comunque tutte quelle, no non l'elipo, anche loro, comunque tutte le batterie della famiglia dell'elitio, hanno tempi di ricarica biblici ragazzi, purtroppo quello non possiamo farci nulla, perché? Per integrare la corrente hanno bisogno di tanto tempo, e più la batteria è grande, quindi più maggiore la potenza, e più tempo ci impiegano, ovviamente, e quella è un po' una rottura di balle, ma non dimentichiamoci che comunque Cigarine garantirà se poi il pacco batteria, ecco, no, nel mio caso me lo scordo, dimenticavo, nel mio caso no, perché con queste batterie scarse, ma veramente scarse, non sono appunto, e poi le cambierò adesso, ma adesso non mi interessa, tantamente, tanti di pacchi batterie non mi interessa, però appunto, poi appunto metterò le Samsung, e allora lì il discorso poi cambia, allora lì effettivamente abbiamo tre ore di autonomia, qui, qui arrivo a un'ora e venti, ho già fatto la prova e tutto quanto, Con questo pacco batterie qua, piuttosto scarno, perfetto, mi raccomando ragazzi, voi mettete il pacco batterie, ok, della Samsung, Leon Samsung, le migliori, le più, beh no, le più costose no, però, son costose, ma hanno un'ottima efficienza, hanno effettivamente, sono da 2000 mAh, ma sono 2 Ah effettivi, io li ho già testate, vi posso assicurare che sono effettivi ragazzi, per cui abbiamo quindi la tensione nominale, ok, Per appunto la corrente, e ricopriamo appunto la nostra potenza totale, come abbiamo detto, ok, ed effettivamente siamo sui 50 Watt, per cui tre ore di autonomia abbiamo, ok, con 2 Ah, perfetto ragazzi, bene, siamo arrivati appunto a questo punto qui, ok, qui ovviamente c'è il cavetto, ok, con tutti i vari positivi di ricarica, questo qua è il cavetto multifilo, perfetto, con tutti i livelli di tensione, per l'esattezza, Perfetto ragazzi, bene, qui la tensione nominale che va alla scheda, perché poi c'è l'interruttore che è sulla scheda, ecco, questi baracchini, questi qua sono dei baracchini, eh, perché questi qua praticamente sono dei bilanciatori baracca, finché funziona, ok, poi possiamo anche buttarlo nel cesso, ok, per questi, per questi pacchi batterie qui sono un po' scarsi, eh, non sono molto affidabili, questi robi qui, comunque sia, niente, Finché funziona, siamo a posto, ok, se poi a massimo ragazzi non vi funziona qualcosa, scrivetemi pure sotto che vi do i consigli, non c'è nessun problema, perfetto ragazzi, ci vediamo nella prossima presentazione.